Dental City Attenzione se cerchi specialisti in ambito medico chiama CityMed centro medico specialistico Tanti professionisti esperti con esperienza impegnati nella ricerca e nello studio delle più aggiornate tecniche e terapie mediche Dental City e CityMed a Monte Cassiano presso il nuovo centro commerciale in via Mainimi 79 Siamo tornati di nuovo in studio sempre con il dottor Paci e la dottoressa Fichetti per parlare di arteriopatia periferica Ecco, dottoressa Fichetti, tornando un attimo a parlare dei mezzi diagnostici Si può fare l'angiografia nei pazienti allergici al mezzo di contrasto? Sì, i pazienti possono essere sottoposti a una terapia desensibilizzante Il giorno prima, il giorno stesso e il giorno dopo la procedura Oppure si può evitare completamente l'uso del mezzo di contrasto iodato Si può usare la CO2 che è l'anidride carbonica Va all'interno delle arterie e i principi fisici sono differenti Non è radiopaca come il mezzo di contrasto iodato ma è radiolucente L'immagine più o meno è sovrapponibile anche se i colori sono differenti nello schermo Però ci guida lo stesso modo efficace al trattamento Meglio del mezzo di contrasto nei pazienti Parte nei pazienti allergici al mezzo di contrasto Ma nei pazienti che hanno una riduzione del filtrato glomerulare Perché l'anidride carbonica non viene eliminata dal rene E quindi non è nefrotossica Viene eliminata semplicemente dal polmone con gli atti del respiro Bene, il paziente dottoressa ha sottoposto ad angioplastica Il trattamento di angioplastica può tornare ad una vita normale? Deve tornare ad una vita normale Proprio questo il vantaggio dell'angioplastica I pazienti sono appunto dimissibili nel giro di 24 ore Devono osservare solamente qualche ora di riposo a letto dopo la procedura E poi una volta tornati a casa devono assolutamente iniziare a camminare Perché camminare agevola la circolazione e mantiene il lavoro che è stato fatto Devono però assolutamente abolire i fattori di rischio Quale il fumo di sigaretta Devono tenere sotto controllo il diabete, la pressione e la dislipidemia Bene, dottor Paci, prima lei l'aveva accennato Insomma abbiamo capito un attimo che esiste comunque un'associazione tra diabete e arteriopatia periferica Sì, esiste un'associazione anche importante Perché il paziente che soffre di diabete in realtà ha un rischio di incorrere in problemi di arteriopatia periferica Che è addirittura 4 volte maggiore di quello del paziente che non ha diabete Questo perché? Perché quello che succede è che nel diabete ci sono una serie di alterazioni In primo luogo micro-neurovascolari Per cui c'è una riduzione della sensibilità alla propriocezione Per cui il paziente non avverte ad esempio un problema di carico Poi ci sono dei problemi di una disfunzione vasomotoria Si formano degli shunt tra arterie e vene Si va incontro a una progressiva deformazione della pianta del piede Fino ad arrivare alle deformazioni delle dita Insomma c'è una serie di fattori già importanti connessi col diabete Soprattutto la perdita di sensibilità A fianco a questo ci mettiamo che invece si instaurano in paziente con arteriopatia periferica Una micro-angiopatia e una macro-angiopatia Che è caratteristica del paziente diabetico? Perché interessa in maniera quasi molto precoce e quasi esclusiva I vasi al di sotto del ginocchio I vasi piccoli Le arterie tibiali Gli inglesi usano bilode di sotto al ginocchio Si tratta di vasi di 2 mm In cui le lesioni sono estremamente lunghe, diffuse E costituiscono uno scoglio importantissimo per il chirurgo Perché il chirurgo lì non ha la possibilità O comunque non è semplice Fare un bypass E lì l'angioplastica, il trattamento per cutaneo È, diciamo, go standard Veramente dal secolo scorso Perché solo il trattamento per cutaneo Riesce a risolvere casi nel paziente diabetico E questo è il motivo appunto per cui Queste lesioni, questo tipo di patologia Va riscontrato precocemente Perché si può intervenire con successo Un successo che è analogo Nel paziente diabetico a quello non diabetico Ecco, quindi i trattamenti poi Dottore, alla fine Il risultato dei trattamenti è uguale Sì nel paziente diabetico che in quello non diabetico Sì, appunto Diciamo, ovviamente Dipende dallo stadio in cui il paziente arriva Però L'efficacia clinica Ripeto, già dal secolo scorso Si riportavano risultati di efficacia Tra il 60% e l'80% a due anni Che è un risultato molto importante e molto buono Era Oggi, grazie alle novità tecnologiche Di cui parlavamo prima Eccetera Questa efficacia e questo successo tecnico È molto aumentato E così via l'efficacia clinica Sia nel paziente diabetico Che in quello non diabetico Bene, questo è importante Assolutamente Perché, insomma Sembra essere più fragile Comunque il paziente diabetico È assolutamente più fragile E, ripeto La cosa più drammatica Con cui ci troviamo purtroppo Ad avere a che fare È che arrivi in sala In sala angiografica A fare questi trattamenti Un paziente che ha già uno stadio Molto avanzato di diabete Per cui la microangiopatia Si è portata talmente avanti Che i nostri trattamenti Rischiano di risultare inefficaci Per cui bisogna accorgersi del diabete Quanto prima E accorgersi se coesiste Una patologia arteriosa Quanto prima Per poter intervenire Bene Bene, dottore Dottoressa, ecco Parlando appunto Di arteriopatia periferica E quindi Tra i vari trattamenti È previsto anche lo stent? Non sempre Lo stent è una rete A maglia in nitinol Che si adatta molto bene Alla parete arteriosa Ma viene posizionato In caso di risultato Non ottimale All'angioplastica Quindi in caso di Recoil Di elastic recoil Di ritorno elastico di parete O in caso di dissezione intimale Limitante il flusso Che non risponde Alla dilatazione prolungata Con catetere a palloncino Infatti Tendiamo a Non posizionarlo O a posizionarlo Quando proprio è necessario Perché Anche lo stent Può creare problemi Nelle pareti Molto danneggiate Lo stent Ha uno stimolo Alla proliferazione Quella che si chiama Proliferazione intimale Cioè le cellule Della tonaca muscolare Proliferano E vanno a restringere Il lume arterioso Possiamo sempre intervenire Con l'angioplastica Oppure con la terotomo Gli stent Di ultima generazione Sono stent A lento rilascio Di farmaco Come il sirolimus O il placitaxel Che hanno la funzione Proprio di inibire L'iperplasia intimale Bene Dottor Paci Prima abbiamo parlato Delle innovazioni Insomma Nel campo Della radiologia Interventistica Ce ne sono altre Di novità Oltre quelle Che ha menzionato Prima Sì Assolutamente Una è Questa di cui Parlava la dottoressa Fichetti Cioè l'avvento Nell'ambito Periferico Di device Che sono già utilizzati In ambito Coronarico Da tempo Come gli stent A rilascio di farmaco I palloni Cateteri a palloncino A rilascio di farmaco Che servono proprio A ridurre L'insuccesso Diciamo A breve termine Di questi trattamenti Che è connesso Con questo Trauma Sulla parete vascolare Che il palloncino Comunque esercita E che stimola Una reazione infiammatoria Una iperproliferazione Delle cellule muscolari E E E E quant'altro Per evitare Questo problema Uno delle nostre Delle grosse novità È la diffusione Del trattamento Con un aterotomo Cosa vuol dire Sono strumenti Che Come vedete Ottengono Il debulking Cioè riportano Invece che Plasmare La placca Riescono A rimuovere La placca Dall'interno Del vaso E Questo Comporta Un guadagno Di lume Complessivo E comporta Una serie Di Vantaggi Cioè ad esempio La riduzione Del rischio Di dissezioni Come diceva la dottoressa E di tutte quelle situazioni Che ti rendono Indispensabile Il posizionamento Di uno stent Questo va detto In ambito coronarico Lo stent È un device Completamente Universalmente Impiegato E riconosciuto Giustamente Nell'arteria femorale Lo stent Va utilizzato Quanto meno Per cui queste Tecniche Che portano via L'ateroma Da dentro Il vaso Permettono Di evitare Ridurre Il ricorso Allo stent Non solo Una delle cose Più Curiose E interessanti È che Aver portato via L'ateroma Da dentro Il vaso Consente Agli strumenti A rilascio Di farmaco Di avere Un'efficacia Ancora maggiore Nel ridurre Il problema Dell'iperplasia Intimale Bene dottore Ecco È riportato Anche L'impiego Del laser Dottore Nel trattamento Dell'arteriopatia Periferica Sì Il laser È una Tra gli aterotomi C'è l'aterotomia Che utilizza Il laser Il laser È una tecnica Il laser a decimeri Che utilizza Una tecnologia Che è Più o meno La stessa Di quella Che si usa In ambito Di chirurgia Oculistica E Ci sono diversi Principi Che entrano in azione Il principio Degli effetti Dei meccanismi D'azione Uno è Foto Termico In quanto L'impulso laser Prova il riscaldamento Della cellula Della Placca E questo comporta L'esplosione E la disintegrazione Frontale Della placca Poi ci sono C'è un effetto Motofotomeccanico Per cui L'esplosione E il collasso Che rapidamente Si succede Di queste bolle Di vapore Che si formano Va a determinare Appunto La disintegrazione Della placca E anche A provocare Delle onde D'urto Di tipo Sonoro Ultrasonoro Che Un po' come Nella Litotripsia Dei calcoli Renali Fanno sì Che si Recuperi Lume All'interno Del vaso E questo Permette Quindi disintegra In sostanza Sì Disintegra La placca E ottiene La vaporizzazione Della teroma Per cui Non c'è un problema Di migrazione Di materiale Più in periferia Ad esempio Nel piede Perché si provoca Proprio La vaporizzazione Completa Della placca Teromasica E' uno strumento Molto interessante Che ci consente Di risolvere Situazioni Estremamente Complesse Bene Dottore Noi prima Avevamo parlato Insomma Lei aveva parlato Dei vari distretti Ateriosi Insomma Che sono Interessati Dall'arteriopatia Periferica Ecco Vogliamo un attimo Ritornarci E dire Quali sono I trattamenti Previsti Insomma Per ogni distretto Periferico Poi colpito Dall'arteriopatia Insomma Sì Giustamente Quando si parla Di arteriopatia Periferica Si parla Di arti inferiori Ma un po' Di tutte le arterie Adesso Senza Parlare Di arterie Cerebrali O coronarie Che hanno I loro specialisti Però In realtà Si parla Di tutte le arterie Del corpo umano Che sono tutte Raggiungibili Con queste Metodiche Mininvasive Tra queste Va menzionato Sicuramente Ad esempio Le arterie renali Nelle arterie renali Questa stessa tipologia Di trattamenti Può Ottenere La ricanalizzazione Delle arterie renali Andando a Ridurre O comunque A ottenere Il trattamento Del problema Della insufficienza Della insufficienza Renale Correlata Con Un'astenosi Di un'arteria Renale In ambito Renale C'è anche Una ipertensione Che si chiama Nefrovascolare Che si stavola Quando ci sia Un'astenosi Dell'arteria Renale Per cui Il trattamento Dell'astenosi Ottiene anche Il trattamento Di una certa Forma Di ipertensione Connessa Proprio Con L'arteriosclerosi Delle arterie Renale Altro settore E' quello Che merita Menzione E' Il distretto Delle arterie Che vanno All'intestino L'arteria Mesenterica Quando si Instaura Un'astenosi Dell'arteria Mesenterica C'è Un problema Di Ipoafflusso Poco ossigeno All'intestino Questo può Configurare Diverse situazioni Che sintomatologia Dà Esatto Possono dare Una situazione Diciamo Cronica Anche Di difficile Interpretazione In tanti casi Si chiama Angina Addomis Assomiglia All'angina Indotta Dalle coronarie Con un dolore Postprandiale Con un Dolore dopo i pasti Dopo i pasti E che spesso Si confonde Con l'ulcera Si confonde Con altre situazioni Gastroenterologiche E per cui Bisogna Conoscerlo E saperlo Riconoscere Perché il trattamento Di queste Stenosi In questi casi Risolve Il problema Che spesso Determina anche Dei dimagrimenti Nel paziente anziano Si vedono dei pazienti Che arrivano In uno stato Drammatico Di perdita di peso Perché non mangiano Non riescono A mangiare E invece Noi possiamo Risolverlo Con una certa Tranquillità Certo bene E dottore Ci sono altri distretti Non so se Dica dica Come no Certo Altre cose Altri ambiti Sono A parte gli arti superiori Che ha menzionato La dottoressa Fichetti C'è un ambito Che mi preme Sottolineare Che è il trattamento Della Bonifica Del mantenimento Delle fistole Arterovenose Nei pazienti dializzati Questo è uno dei settori Che fanno dialisi Cioè il paziente Che fa dialisi Ha una fistora Che mette in comunicazione Il circolo arterioso Con quello venoso Proprio per realizzare La dialisi Questi non durano In eterno Hanno bisogno Di una manutenzione E noi siamo in grado Spesso con la semplice Angioplastica Di provvedere A far durare Per molti anni Questi Che sono In questi pazienti Dei presidi Estremamente Estremamente importanti Che li mantengono In grado Di avere una vita Salubre Bene Abbiamo dette tutte? Sì Ce ne sono altre Ma non posso dire Trovo tutto No va bene Comunque abbiamo detto Quelle più importanti Sì Adesso se ce n'è un'altra Importante Che la vuole menzionare No va bene Bene Ecco dottore Le volevo chiedere Qual è la casistica Nel vostro ospedale IRCA Di Ancona Ecco questo Mi piace dirlo E diciamo che Nell'arteriopatia periferica Noi stiamo trattando Circa 500 pazienti all'anno Che è un numero Abbastanza considerevole La cosa che mi piace E che siamo abbastanza orgogliosi Di riportare E che c'è un trend in aumento Nel numero di rivascolizzazioni Eseguite dal 2019 al 2022 Io sono entrato nel 2020 E al di là del 2020 In cui abbiamo subito Una contrazione del lavoro Dovuta al Covid Dopodiché c'è stato un incremento E c'è tuttora un incremento Notevole Del numero di trattamenti eseguiti A fianco a questo Una caratteristica Che è proprio del nostro istituto Che si occupa prevalentemente Di anziano E che c'è un incremento Nella complessità Dei trattamenti Cioè stiamo trattando Sempre più Pazienti con occlusioni Come dicevamo prima Si parlava di occlusioni E non di stenosi Cioè situazioni particolarmente Complesse E pluridistrettuali Cioè una percentuale importante Di pazienti Si presenta con occlusioni Faccio un esempio Arterie liaca Arteria femorale E vasi di gamba E noi riusciamo Questo nel paziente anziano Dottore? Nel paziente anziano Prevalentemente In questi casi E qui vuol dire Che noi Contestualmente O comunque in più sedute Riusciamo a risolvere Un problema Molto esteso Molto panoramico E diciamo che Più del 50% Dei pazienti Che In cui vengono trattate Più occlusioni Ha più di 80 anni E questo vuol dire Che quando Arriva sul tavolo angiografico Un paziente con più di 80 anni Bisogna avere Diciamo Una speciale competenza Un modo Un'equip Anche Devo menzionare Gli infermieri Che operano Nella nostra Sala angiografica Ci vuole un corredo Non voglio usare il termine Allegria Ma il paziente Va un po' Coccolato Per portare a termine Questo tipo di procedure Che il paziente È sveglio È tutto facile È tutto facile Niente facile Quando è sveglio Soprattutto nel paziente anziano Ci vuole una certa competenza Comunque voi trattate Un po' come nei bambini Certo Esatto Comunque voi trattate Sia pazienti giovani Che pazienti anziani Sì assolutamente Ecco bene Assolutamente Dottoressa Fichetti Ecco appunto Il dottore Ha menzionato Un attimo Il covid Insomma Che c'è stato Un po' un arresto Durante il covid Di questa Insomma Redologia interventistica Sì Il covid Ha comportato Molti ritardi In vari ambiti Senz'altro Questo si è visto Soprattutto nel paziente Anziano Perché i ritardi Si sono sommati Alla sua Costituzionale Fragilità È emerso infatti Che pazienti Ricoverati Per le complicanze Del covid Affetti Da arteriopatia Hanno il 40% In più Delle probabilità Di sviluppare Complicanze Sistemiche Gravi E quindi Di morire Inoltre Nei momenti Più duri Della pandemia Per carenza Di posti letto Sono stati effettuati Meno interventi Di rivascolarizzazione Quindi i pazienti Si sono presentati In ritardo Con quadri Sicuramente Più complessi Che hanno richiesto Trattamenti Più lunghi E complicati Comunque La radiologia interventistica È a favore Dell'anziano Perché i tempi Sono più brevi Il recupero È molto più rapido E quindi Anche i pazienti Anziani Beneficiano Di questi trattamenti Inoltre Inoltre La radiologia interventistica È anche a favore Del sistema sanitario In questo periodo Così di crisi Perché Il tempo di ricovero È molto molto inferiore Rispetto a quello Di una chirurgia tradizionale Bene Ecco dottore Le abbiamo menzionati Tutti i campi Di applicazione Della radiologia interventistica Nel paziente anziano? No Sì Diciamo che Oltre a quelli Connessi Con l'arteriopatia periferica C'è una gamma Di applicazioni Che possiamo Di cui possiamo Giovare Nel paziente anziano Nel paziente Meno anziano La radiologia interventistica È una branca Della radiologia Che usa L'imaging La guida Delle immagini Ecografiche Angiografiche Tac Per eseguire Trattamenti A cielo Non a cielo aperto Ma a cielo chiuso Cioè Con una semplice puntura E per cui C'è la possibilità Di trattare In maniera Mininvasiva Organi profondi Qualsiasi organo Vaso O tessuto Può essere raggiunto O quasi qualsiasi Con tecniche Di radiologia interventistica Ad esempio Devo menzionare La possibilità Di trattare Qualsiasi forma Di aneurismi Una delle nostre Esperienze Più Consistenti È quella Del trattamento Di aneurismi viscerali Gli aneurismi viscerali Sono aneurismi Dei vasi Profondi Dell'intestino Delle renali Della splenica Sono ovviamente Diffici Da raggiungere O comunque Comporterebbero Un intervento chirurgico Complesso Per noi Navigare Nelle arterie E chiudere Escludere Dal circolo Questo tipo Di aneurismi È una cosa Fattibile Con le dovute Tecniche Si riesce a realizzarle Questi sono i campi In cui Diciamo È un ruolo Di prima scelta Quello dell'interventistica Poi c'è Un'altra Categoria In cui Il ruolo È complementare Ad altre discipline E che comunque È di notevole importanza Anche nel paziente Anziano Va citata La collaborazione Il ruolo complementare Con la chirurgia Sia Vascolare Ma anche Generale Ci sono Una serie Di pazienti Che si presentano Fragili Anziani Che prendono Tanti farmaci Hanno tante Già patologie croniche Difficili Per il chirurgo Delicati Per il chirurgo In cui noi Con Tra virgolette Facilità Possiamo Drenare Una raccolta profonda Possiamo Risolvere O raffreddare Delle situazioni Flogistiche Acute In modo tale Che magari Arrivino A un intervento Chirurgico In una situazione Già Dominata Da un punto Di vista clinico Poi c'è L'ambito Gastroenterologico Quello urologico I drenaggi Delle vie biliali L'emozione Di calcoli Le protesi Urinarie L'embolizzazione Della Ipertrofia Prostatica Si può Essere di aiuto All'urologo Con una riduzione Tramite Embolizzazione Dell'ipertrofia Prostatica Diciamo Che ci sono Una serie Di strumenti I nostri E dei nostri Colleghi Che messi Tutti insieme Possono Portare Ad avere Un risultato Veramente Efficace Nel paziente Anziano E non solo Bene Noi ci fermiamo Per un'altra Pausa pubblicitaria Restate con noi Torniamo tra poco Sempre con il Dottor Pace La dottoressa Fichetti E come di consueto Nella terza parte Con le domande Dei nostri Telespettatori La sanitaria Fogliardi Del tecnico Ortopedico Dottor Andrea Bellavarva Da oltre 80 anni Al servizio Del cliente Con cortesia E professionalità È specializzata Nella produzione A mano Di plantari Su misura Di ogni genere Con esame Baropodometrico Elettronico Gratuito Statico Dinamico E morfologico Negli storici locali Di via Esonzo Ad Ancuna Vi aspetta Un vasto assortimento Di prodotti Per l'ortopedia Corsetteria Elettromedicali Ed ausili Per disabili Fornitore autorizzato Asur Inail Disponibilità Di noleggio Ausili Ed elettromedicali Locali sanificati 24 ore su 24 Con tecnologia Certificata E da oggi Possibilità di acquisto Di diversi modelli Di sanificatori Di produzione italiana Per informazioni 071 20 33 24 Nuovo polo diagnostico A 25 anni Dalla fondazione Del centro medico Associati Physiomed Nella sede storica Di via Natali 1 A Sforza Costa Dopo aver aperto Centri medici A Corridonia Tolentino E Cevita Nova Marche Il gruppo medico Physiomed Ha deciso Di raddoppiare E rafforzare La sua presenza A Sforza Costa Aprendo una seconda sede Sempre a Sforza Costa In via Giovanni 23esimo Numero 8 Per info e prenotazioni 0733 20 28 80 Grandinetti Valido fino a fine anno Grandinetti Tende Pergo Tende Bioclimatiche E ad Ancona Porto Potenza Picena Pesaro Grotta Mare Unifor 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 SRL Riqualificazione Di qualificazioni Fiscali Del 50 E 65% Sfrutta le vantaggiose Possibilità Dell'eco bonus 110% Sisma bonus Sconto in fattura E cessione del credito Unifor SRL Via Fratte 10 Osimo